Plus è stata fondata nel 2011 da un gruppetto di cinque persone lgbt con hiv Perché di fatto nessuno ci ha mai preso in considerazione nei nostri bisogni specifici Io ho avuto la fortuna di scoprirmi omosessuale e incominciare a guardarmi intorno proprio nel momento in cui nasceva a Bologna il movimento del circolo 28 giugno Non fu semplice, fu una grande lotta e noi richiedevamo il nostro spazio Per me iniziare a fare parte di questa comunità è stata una grossa paura Però dal tempo stesso sentivo anche che non avrei più avuto voglia, desiderio, intenzione di rimanere nell'ombra Se noi non ci raccontiamo in prima persona non ci sarà mai nessuno che ci farà domandare com'è vivere con hiv e che cosa significa socialmente, politicamente, di che cosa abbiamo bisogno, che cosa desideriamo Adesso che sono fiorito ho il dovere di rivelare a tutti che il peccato è una manzogna Sì 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 Sì